Sì vabbè oggi cosa c'è adesso? Oh Paolo un mal di schiena, ho fatto 18 mucche! Un mal di schiena pazzesco ma non ho idea! Ma quindi sei anche tu un DESPERATE GOLFERS! Vabbè Ale allora cosa ci racconti oggi a parte sto mal di schiena? I colpi sono andati bene o male? Ma va malissimo, tutti top, flappe, veramente! Oh random, proprio! Ma l'hai fatto il video? L'ho fatto, guardiamolo! Vabbè ragazzi spero che l'abbiate fatto anche voi il video perché avete visto quello di Ale, è uno degli errori più comuni Guardate come nello stacco va completamente a destra col fianco destro quindi va completamente fuori asse e ovviamente ruotando la schiena si trova completamente ribaltato nel classico reverse pivot quindi per questo non mi fa male la schiena Certo perché hai tutto il carico nella parte lombare della schiena che ti uccide ovviamente a parte che poi lo swing ragazzi non c'era nessuna chance puoi arrivare dall'esterno, puoi ribaltarti e rimanere a destra cioè l'errore è assolutamente terrificante Allora Paolo che drill mi consigli? Vabbè dammi il bastone che ragazzi vi do questo drill Ragazzi molto facile il drill per eliminare questo slittamento verso destra e allora prendi il tuo bravo bastone, ti metti in posizione e poi cosa fai? quindi cerchi l'opposto quindi il fianco dovrai mandarlo a sinistra ok? e ruoterai quindi questa è l'esasperazione del feeling quindi fianco sinistra fianco lo mando a sinistra e lo ruoto intanto faccio il back swing vi troverò nella completa opposta posizione prova, prova fammi vedere subito fammi vedere subito quindi da qua fianco così perfetto bello ancora? ma non sento un mal di schiena adesso mal di schiena assolutamente no colonna vertebrale inclinata perfettamente riuscirete ad arrivare dall'interno bellissimo la vostra schiena mi ringrazierà fantastico direi assolutamente facile mi raccomando poi quando fate il drill poi dopo non è che dovete esagerarlo tutto il giorno no no esatto finire dall'altra porta se no settimana prossima faremo un drill per chi va dall'altra porta quindi caro Ale abbiamo modificato la schiena sei molto rilassato swinghi meglio per un golf perfetto inclinare acquina ingresa 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 l'os Mitchell